Dopo sei mesi, quando il parco della Biblioteca San Giovanni era ricoperto di foglie, successivamente ripulito dalle autorità competenti, siamo tornati sul posto per problematiche di diverso tipo che stanno attanagliando i residenti di Via Massimi da diverso tempo. Qui alla notte si bivaccano e non è una cosa bella vedere quanto arrivo a casa a mezzanotte, luna, che vedi questa gente tutta a rugolone per dire, ha detto pesarese. In più è la questione dei cani, i cani qui dal mattino alla sera è sempre pieno, li lasciano senza guinzaglio, quelle donne che fanno finta di telefonare per non raccogliere, e dopo diventa un parco sporco. Poi ci sono gli segnali che i cani non si possono portare, si è detto qualcosa a queste persone, hanno risposto che questo l'hanno fatto apposta come sgambatoio per i cani, che io penso che non sia una cosa vera. Anche se fosse quanto raccogliono, in mezzo all'erba rimane sempre lo sporco degli escrementi. I bambini giocano, passano sopra, si buttano per terra, quelli raccolgono nei vestiti, tutto. Penso che non sia una cosa igienica. Questo è un provvedimento che devono prendere qualcuno, che deve prendere. Questa problematica è anche quella dei ragazzi che magari possono dormire qui, nudi, come ha detto lei. È una problematica che va avanti da quanto tempo? All'ultima mezza stamattina qui erano due, tutti i mezzi nudi, a dormire qui da ieri sera, gli hanno detto qualcosa a una signora là, gli hanno mandato a fanculo per dirla chiaro. Dopo si va a trovare rogni perché urlavano come i mati a mezzanotte. Io non sono intervenuto perché è capitato altre volte, rispondono male, non voglio litigare. Quindi cosa chiedete al comune o chi di dovera? Devono venire a vedere, i vigili qui vengono alle 11 e mezza, alle 11, quando non c'è quasi nessuno. E la sera alle 5, 5 e mezza si ferma, stanno 20, 10 minuti, un quarto d'ora, lì a vedere. Ma devo venire anche negli altri orari, quanto veramente alla notte c'è bisogno. Cerco di pulire con dei miei colleghi anche il parco, le vie qui in Mitrofe e poi dopo che faccio questo servizio mi trovo che questa gente qui viene a sporcare davanti a casa mia e non mi sta bene.